La consulta regionale europea insieme a 36 studenti delle scuole superiori piemontesi ha partecipato alla Festa dell'Europa a Milano. Il filo conduttore di questa edizione è stato il pane, la sua storia, le sue forme dall'origine ai giorni nostri, secondo le tradizioni di 21 paesi europei, dalla baguette francesa ai pretzel tedeschi. Al termine della mattinata è seguito un quiz a squadre sulla storia dell'Unione Europea, in palio viaggi d'istruzione al Parlamento Europeo. Tra i vincitori, anche quattro giovani piemontesi. Il pane, come è visto da giovani che non hanno, come si suol dire, patito la fame, per cui il pane era importante? Ma secondo me il pane, rispetto alle generazioni passate, non è così importante. Ormai noi lo consideriamo come un alimento alla base della nostra nutrizione, quindi non conferiamo la stessa importanza che invece dà ai nostri antenati. molto spesso tendiamo anche a sprecarlo, non considerando invece la sua importanza che ha avuto nella storia e che continua anche ad avere adesso. E che giudizio sull'Europa? Lo chiediamo anche a lei un'Europa che deve essere un'Europa unita, ma però anche un'Europa che difende le tradizioni e l'identità. La manifestazione del pane ce l'ha insegnato? Sì, ci è molto chiarito che l'Europa non è soltanto un'unione monetaria, non è soltanto burocrazia, ma si deve proporre nuovi valori. Adesso con la cittadinanza europea abbiamo realizzato molti valori, molte esperienze per la prima volta, adesso possiamo viaggiare, però in questo ultimo periodo è un po' criticata l'Europa per essere sempre più attenta alla burocrazia, all'economia e di non occuparsi tanto dei valori umani, guardarsi le immigrazioni e tutto. Cosa vi ha lasciato la manifestazione di questa mattina? Ovvero che concetto di Europa avete, una lettura un po' originale tramite il pane? Allora, è stata comunque un'esperienza interessante e sono comunque esperienze che non si possono fare tutti i giorni, quindi è bello avere l'opportunità di fare qualcosa di nuovo e questo percorso secondo me è stato interessante, soprattutto è stato bello perché non pensavo che una cosa comune come il pane potesse appunto essere un elemento per riflettere sull'Europa. E lei personalmente che giudizio ha dell'Europa? In un momento in cui l'Europa è posta sotto accusa su diversi fronti? Non lo so, io sinceramente non ho un'opinione precisa sull'argomento dell'Europa e mi documento e cerco di restare abbastanza al passo, non so se possa essere, penso che comunque sia un grande passo avanti e comunque un modo per collaborare, per fare in modo che gli stati abbiano appunto dei punti in comune e possano creare un'Europa migliore.